In questa legislatura ci siamo posti alcuni temi in particolare, come riuscire a far funzionare la pubblica amministrazione con meno spese di funzionamento e riuscire contemporaneamente a investire di più nei servizi alla persona, come lo abbiamo fatto? Cercando di ridurre e accorpare, far cooperare insieme i diversi enti, far sì che i comuni potessero avere la possibilità di mettere insieme più funzioni fra di loro e quindi riuscire con meno, ad esempio, personale a dare più servizi. E contemporaneamente di avviare per la prima volta in questa regione un processo di fusione. Da 348 comuni, oggi in questa regione ce ne sono 340. Avevamo nove ambiti ottimali della gestione nel settore dell'acqua e dei rifiuti. Oggi ne abbiamo uno, un'unica agenzia in capo ai comuni che regolano il sistema sia della qualità dei servizi, sia in termini di costi e quindi di tarifazione. Contemporaneamente, a fronte di oltre un miliardo di minori trasferimenti da parte dello Stato, siamo riusciti a non aumentare nessuna tassa nell'intera legislatura e anche prevedere per il 2015 una diminuzione dell'addizionale IRPEF per le fasce di reddito fino a 40.000 euro all'anno, una riduzione che in alcuni casi è anche oltre il 50% rispetto al 2014. In contrapposizione al patto di stabilità abbiamo sbloccato in questi ultimi tre anni 800 milioni di euro rispetto alla potenzialità che era preclusa ai comuni di pagare i loro fornitori.